Dopo 5 anni di attività, lo sportello lavoro dell'Università di Trieste ha portato significativi risultati e questa mattina all'Ateneo Triestino è stata rinnovata la convenzione tra la Regione e l'Università per permettere la prosecuzione dell'attività dello sportello. Elisabetta Zaccolo. L'occupazione dei neolaureati all'Università di Trieste è superiore alla media nazionale sia ad un anno dal conseguimento, sia a 3 che a 5, non solo. Anche lo stipendio annuale è superiore alla media nazionale. In un mercato del lavoro sempre più complesso, per gli studenti con una solida formazione, preparati ad affrontare le dinamiche della globalizzazione e sensibilizzati già durante il percorso universitario ad acquisire quelle competenze trasversali che fanno la differenza una volta laureati, il lavoro dunque c'è ed è pagato di più. Merito anche della convenzione rinnovata oggi tra lo stesso Ateneo e la Regione. Cinque anni di servizi per il lavoro attraverso uno sportello operativo nella sede universitaria, il primo esperimento in Italia di presenza permanente di un centro per l'impiego presso un Ateneo che, stante ai dati forniti da Alma Laurea, funziona bene proprio grazie a questa sinergia. Donata Vianelli è la delegata del Rettore all'Orientamento degli Studenti. Il fatto di essere assieme, lavorare assieme all'interno anche dello stesso edificio a favore degli studenti, pensiamo che abbiamo una popolazione studentesca di 16.000 studenti con più di 3.000 laureati all'anno, ci favorisce certamente molto per tutte le pratiche, per tutti i progetti che possiamo anche ideare e sviluppare assieme. E agli studenti più meritevoli e con un ISEE compreso tra i 23 e i 30.000 euro, la Regione verrà incontro con un contributo, l'assessore al lavoro Panariti. Per questi studenti e per queste studentesse che hanno un voto di laurea oltre il 100 e che hanno un ISEE all'interno di questo range, ci sarà un intervento da parte della Regione che permetterà di abbattere le spese di iscrizione all'Università. Un esempio positivo citato dal Rettore Fermeglia, il corso di laurea ciclo unico di giurisprudenza è terzo in Italia nei ranking del Censis. A Trieste il tasso di occupazione è del 100% dopo 5 anni.